Lo spettacolo è di quelli indecorosi, un parco giochi per bambini, ricettacolo di rifiuti e spazzatura ma soprattutto lasciata all'incuria. A guardarsi intorno sembra quasi di muoversi in un perimetro di sterpaglia. Le immagini che vediamo è quanto restituiscono i giardini levi in pieno centro a Cosenze, che ha cambiato utilizzo, finendo per diventare dal luogo in cui i bambini della città avrebbero potuto trascorrere a solati pomeriggi giocando a pallone in una vera e propria discarica a cielo aperto con alto potenziale di nidificazione di ratti, insetti e infezioni. Per non parlare del verde che di rigoglioso ha ben poco e che spicca rispetto ad un più curato parco morrone posto dall'altro lato della strada e che guarda imponente quella piccola testimonianza di come possano esistere luoghi sotto gli occhi di tutti ma che nonostante tutto passano inosservati nelle loro problematicità.